ok salve buongiorno a tutti benvenuti al consueto appuntamento del del fine settimana dove come appunto da ogni sempre per ogni appuntamento praticamente andiamo ad analizzare i mercati chiusi i mercati quindi del durante proprio la pausa del fine settimana beh abbiamo assistito perché mi ha seguito sia sul nostro sul canale ufficiale sulla pagina facebook sulla pagina youtube con i vari video in particolare però sopra al al canale telegram per chi mi ha seguito in pratica le questa settimana ovvero la prima settimana che poi fondamentalmente di trading vero la prima settimana piena insomma di trading abbiamo avuto un bel po di risultati alla fine è stata un eccellente un eccellente settimana bene la situazione è che praticamente ancora resta protagonista l'euro l'euro che continua a spingere soprattutto nei confronti del dollaro americano che resta in grossa difficoltà addirittura ci sono ci sono ci sono stati appunto alcuni firme eccellenti economisti eccellenti che sembra che l'euro almeno dalla forza che l'ha sostenuta dall'anno scorso quindi dal forte movimento fase di apprezzamento che diciamo l'ha seguito per quasi la totalità il 2017 addirittura l'hanno paragonato è una sorta di valuta rifugio questo perché perché dai vari indicatori macroeconomici che sembra che praticamente sono qua tutti positivi ma poi diciamo che la spinta che è stata impressa proprio nell'ultima parte proprio venerdì ieri è un'analisi da fare con una certa attenzione in quanto proprio ieri si sono rotti dei massimi importanti massimi che sono dovuti praticamente fondamentalmente fondamentalmente ad delle situazioni altre notizie che esulano un po dal 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 mercato dalle non delle news macroeconomiche che già si conoscono a priori leggendo un calendario macroeconomico ma che cosa è successo fondamentalmente quello che ha spinto proprio durante non tanto la mattinata ma dopo ora di pranzo ora europea è stato l'accordo per la formazione di un nuovo governo targato Angela Merkel che appunto ha spinto in una maniera abbastanza cospicua la moneta unica e quindi anche i listini del vecchio continente che fondamentalmente alla fine hanno chiuso tutti al di sopra la parità ritornando al cambio alla major principale quella che bene o male movimenta tutti i mercati cioè che movimenta un po tutto cioè quello che praticamente ha la parte fa la parte da leone ovvero il cambio tra la moneta unica e il greenback addirittura è salita al di sopra ha rotto la soglia degli 1,21 una soglia che praticamente è stata testata già durante le festività durante l'ultima parte insomma del mese del 2017 è arrivando a oltre 1,21 dopo l'andiamo a vedere raggiungendo un nuovo massimo alla fine dal dicembre del 2014 mentre invece nei confronti del dollaro americano purtroppo è un dollaro che un po' le notizie che arrivano da alcuni membri del board della banca centrale americana della fed che per esempio l'ultima indicazione è stata il messaggio di dadley uno dei più influenti del board del fomco praticamente dell'abbraccio armato del braccio esecutivo della fede riserva dicendo che bisogna rivedere la riforma fiscale la riforma fiscale per molti quindi hanno un po' mugugnato già dall'inizio questa riforma fiscale che è nata male si è messa diciamo hanno iniziato i lavori male dal primo giorno e è finita appunto è stata tra virgolette accettata perché poi entro fine gennaio gennaio diciamo è passata bene o male la legge anche al senato però praticamente entro fine gennaio con la postilla di una rivisitazione entro il mese gennaio quindi entro fine gennaio quindi oltre alla riforma fiscale poi purtroppo c'è anche il presidente che sembra che diciamo sembra un po' sembra un po' particolare però praticamente anche lui va un po' con le sue iniziative va anch'esso ad quindi ciò va ad influenzare anche la forza del dollaro americano indirettamente l'ultima dopo i batti vecchi con pio young le varie twitterate sul nucleare insomma cose da bambini più che altro botte risposta tu mi devi una cosa io non ti do la caramella alla fine si traduce in questo l'ultimo colpo basso che poi la stampa i mass media subito hanno iniziato ad a rivalersi contro donald trump e quindi non aspettano che ovviamente essendo un personaggio pubblico purtroppo bisogna anche avere un certo modus operandi quando si va ad in pratica quando c'è questo quando ci sono delle riunioni ufficiali bisogna anche anche se se lo se si pensano alcune cose però bisogna anche avere il tatto di poter di poterle dire purtroppo una frase che è indignato un poco tutti lui parlando della dell'immigrazione parlando di praticamente ha dato come ha dato come praticamente una frase basta con questi zozzi immigrati porci immigrati insomma praticamente quindi ciò ha portato un'ulteriore indignazione da parte non solo americana ma anche da punista internazionale quindi diciamo che già era stato più volte più riprese lui ha dato indicazioni proprio è caduto in queste dalle sue frasi è caduto è caduto in queste movimentazioni particolari insomma in queste in queste frasi un po colorite che però fondamentalmente vanno al di fuori oltre i confini oltre la barriera di un capo di stato il capo di stato deve essere a meno equo deve essere una persona abbastanza anche nei propri modi ma per lo più diciamo questo qua è un po sui generis l'ultimo donald trump beh e quindi un po questo un po anche indicatori macroeconomici che fondamentalmente stendono la ripartenza un po l'inflazione che non raggiungono il loro tetto previsto per il 2 per cento quindi praticamente è una situazione che al momento vede gli stati uniti un po in difficoltà ma non solo questo poi la situazione legata fondamentalmente la situazione legata alla cina che in pratica sembra che anche se non si capisce se è un fake oppure una notizia c'è una notizia farsa la cina che vuole ridurre l'acquisto di di bond americani quindi l'acquisto di ulteriori strumenti finanziari e sapete che la cina adesso da punto di vista mondiale nel mercato mondiale da punto di vista di politica monetaria fa la parte dalle 1 in quanto ha una grossa fetta quindi potrà diciamo è molto influente e un po anche i rapporti geopolitici quindi tutte queste situazioni quindi tra la corea del nord e gli americani e quindi tutte queste situazioni ma più che altro più che corea del nord americano tra donald trump e pio young alla fine abbiamo due personaggi che non era diciamo che stanno in quel punto ma ovviamente non hanno io personalmente anche dall'opinione pubblica non hanno nessun tipo di stabilità per poter soprattutto trump appunto per poter governare una la più potente nazione del mondo e questa situazione appunto ha portato il dollaro americano poi dopo lo andiamo a vedere anche per quanto riguarda il future del dollaro americano in una situazione di pericolo pericolo nel senso che praticamente per il dollaro americano pericolo 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 nel senso che questa movimentazione ribassista ha rotto una zona molto interessante e che quindi potrebbe continuare questa movimentazione al rialzo e al ribasso anche per i prossimi mesi ma il rapporto con l'euro è un rapporto un po' particolare nel senso che ovviamente abbiamo visto l'ultima minute di drag il giovedì abbiamo letto un po' l'abbiamo l'abbiamo commentata anche all'interno dell'appuntamento mattutino quindi con le ore 8 e 30 e l'abbiamo commentata più volte il problema è che praticamente la situazione legata alla effettivamente lui non è che ha dato delle informazioni in più diciamo che non si è sbottonato le informazioni erano quelle che praticamente già erano scontate già si sapeva nel senso che lui vuole mantenere al momento questo quantina di weasing ovviamente fermo restando che però rimane come obiettivo principale l'inflazione anche se lui è detto che praticamente oramai ci troviamo in una spinta propulsiva molto molto forte e quindi sta spingendo un po' l'economia europea e quindi questa è una situazione che però ovviamente noi un dollaro a momento un euro molto forte nei confronti del dollaro americano potrebbe un po' andare a ledere il caso delle esportazioni 1,25 1,25 1,25 un calcolo secondo me può superare 1,23 ma potrebbe arrivare anche 1,25 però un euro fortissimo come ho detto prima potrebbe andare un po' ad a deteriorare il settore delle esportazioni sapete che le esportazioni europee in particolare quelle dei paesi anche l'italia in questo caso potrebbe avere qualche frenata però io non è la prima volta che abbiamo un cambio così forte anche in passato e quindi non potrebbe succedere la stessa cosa per i prossimi mesi ebbene questa è la situazione per quanto riguarda l'assetto diciamo mondiale per quanto riguarda l'inizio di 2018 ovviamente con delle grosse prerogative benissimo non mi voglio non finisco qui la mia prefazione iniziale e iniziamo a vedere un po' appunto come ho detto prima quindi l'accordo per la formazione di nuovo governo targato alla Merkel spinge la mondiale unica e le stili del vecchio continente infatti abbiamo un DAX che chiude che si è fermato a più 0,32% l'Ibex a più 0,26% i CAC a più 0,52% i FUTSI di Londra a più 0,20% e i FUTSI MIB a più 0,53% le news che sono state rilasciate ieri hanno riguardato in particolare gli Stati Uniti con le vendite al dettaglio che hanno mostrato a dicembre una crescita mensile dello 0,4% rispetto allo 0,9% della passata rilevazione mentre le inflazioni si è attestate a dicembre al 2,1% su base annua il leggero calo rispetto al 2,2% il dato appunto c'entra le attese degli analisti ora andiamo a vedere invece la settimana prossima che cosa ci offre il calendario macroeconomico di cui già ho messo giù uno screen già ho fatto una selezione delle notizie da seguire allora abbiamo lunedì 15 a mezzanotte la festa del giorno di Martin Luther King quindi praticamente a mezzanotte degli Stati Uniti quindi è un giorno festivo e festa alle 11 abbiamo un unico dato inerente alla zona euro la bilancia commerciale poi martedì 16 alle ore 8 abbiamo l'indice dei prezzi al consumo della Germania di dicembre alle 10.30 l'indice dei prezzi al consumo invece della Gran Bretagna mercoledì 17 alle 10 nella zona euro l'indice dei prezzi al consumo del mese di dicembre poi abbiamo la produzione industriale le 15 a 15 americana e poi abbiamo il primo meeting del 2018 per quanto riguarda le banche centrali europee dal Canada con in contemporanea oltre alle decisioni sui tassi di interesse che in regalo non dovrebbero esserci diciamo situazioni particolari quindi dovrebbe rimanere tutto come sta però allo stesso orario abbiamo anche la Minut quindi il resocondo relativo all'ultimo meeting di politica monetaria quella di dicembre poi abbiamo giovedì 18 alle 1.30 variazioni del livello dell'occupazione e tassi su occupazione di dicembre dell'Australia alle 5.30 la produzione industriale 5.30 di mattina del Giappone e poi alle 14.30 abbiamo tutta una serie di dati provenienti dagli Stati Uniti e dal Canada in particolare dagli Stati Uniti con i permessi di costruzioni rilasciati le richieste iniziali dei sussidi alla disoccupazione e l'indice della produzione della fede di Philadelphia alle 14.30 allo stesso orario allo stesso orario dal Canada abbiamo la variazione dell'occupazione agricola e poi chiude la giornata le scorte di petrolio alle ore 17 venerdì 19 alle 10.30 le vendite al dettaglio della Gran Bretagna alle 16 l'indice di fiducia dell'università del Michigan di gennaio beh, questo è il calendario economico adesso andiamo a vedere invece quello che vi dicevo prima per quanto riguarda la situazione legata al Fuget Dollar Index benissimo allora vedete praticamente è stato rotto questo livello che in pratica questa zona che è stato testato l'ultima volta esattamente il i primi giorni del mese di settembre dell'anno scorso adesso ieri appunto c'è stato questo forte movimento ribassista che ha chiuso i battenti della settimana a 90 e 62 quindi abbiamo una settimana gli ultimi quattro giorni quindi praticamente dove il dollaro americano ha subito delle grosse perdite le ultime quattro settimane quindi anche per quanto riguarda quindi la prima settimana del mese di gennaio ma anche quella del dicembre 2017 abbiamo avuto delle forti flessioni che hanno seguito un po' quello che è successo per il 2017 diciamo questo è l'andamento del 2017 a questo punto la situazione è che in pratica potrebbe dopo questa l'unica correzione vera che c'è stato qua potrebbe continuare anche per i prossimi mesi come ho detto prima ma se andiamo a vedere la forza delle singole valute vedete l'euro e la sterlina la sterlina pure diciamo si sono appaiate vedete hanno avuto la stessa 1,42% per la sterlina 1,43% per l'euro il balzo della sterlina di ieri il forte movimento la forte fase di apprezzamento diciamo in uno strappo molto molto forte è stato dovuto che appunto ha toccato un livello più alto nei confronti del dollaro dal giorno del referendum della Brexit questo è molto importante dal giugno appunto del 2016 il movimento è scattato in scia dell'indiscrezione da parte di Bloomberg secondo cui i funzionari di Spagna e Olanda starebbero cercando di spingere all'interno dell'Unione Europea per un accordo di soft Brexit in modo tale da mantenere quei rapporti commerciali più diciamo intensi anche dopo i divorzi tra Londra e Bruxelles previsto nel marzo del 2019 quindi questa notizia ha dato quindi ha spinto ha fatto sì che tutti verso tutti nell'acquisto dell'asterlene inglese e quindi l'asterlene inglese ha guadagnato terreno nei confronti di moltissimi ma dico di tutte tutte le altre scena di cui è protagonista poi abbiamo anche il franco che si è mosso a 0,85 il dollaro canadese il dollaro australiano lo yen e infine il dollaro della nuova zana dove praticamente noi abbiamo fatto diverse operazioni proprio in ottica intraday su sterlina dollaro della nuova zana sterlina dollaro australiano sterlina ieno tutte long che sono andate molto bene euro iena l'abbiamo chiusa insomma praticamente abbiamo fatto un bel po' di profitti proprio nell'ultima parte della settimana ma durante la settimana alla fine tranne l'argento che in questo momento rimane in pending abbiamo ancora una situazione siamo in vendita però speriamo che ritorna a scendere in modo tale da avere il quadro completo della situazione beh diciamo che quindi la situazione è questa ora spostiamoci a guardare quindi quello che è successo in particolare prima di andare sui grafici però mi voglio soffermare un attimo sul cot vedete il cot anzi meglio se ecco qua è commentato ho messo questo screen commentato eccolo qua allora andiamo sull'euro FX cioè il future dell'euro le posizioni nette non commercial ovvero queste qua quelle che praticamente vedete vedete con la linea rossa che fondamentalmente riguardano le le posizioni nette ovvero praticamente le linee rosse rappresentano appunto le posizioni nette non commercial quelle che in pratica noi dobbiamo seguire in quanto praticamente si trovano sempre nella stessa sono i trend following detti anche i large trader ovvero gli speculatori gestori di fondo questi trader non utilizzano i future come copertura ma come speculazione e quindi che succede che essi si trovano sempre nella parte giusta del mercato quindi ecco perché dobbiamo seguire le loro indicazioni ovviamente con la differenza che nei momenti di inversione di tendenza dove si fanno cogliere impreparati proprio perché tutti sono sbilanciati nella stessa direzione però per quanto riguarda l'ultimo aggiornamento relativo al cot report di questa settimana si evince che per quanto riguarda l'euro fx e future sull'euro le posizioni nette di acquisto detenute dai non commercial vedete sono vertiginosamente aumentate rispetto al penultimo report infatti dal grafico questo qui si evince che è stato superato anche l'ultimo picco eccolo qua questo ok tale situazione implica che i big stanno scommettendo su un ulteriore apprezzamento della moneta europea mentre sul british pound sterling questo qua in alto a sinistra del centrale la situazione diciamo è quasi identica a quella della future sull'euro con la sola differenza che gli aumenti sono in misura meno evidente ovviamente anche per la stellina se verrà superato l'ultimo massimo potremmo assistere ad ulteriore aumento più cospicuo delle posizioni nette di acquisto mentre il grafico che riguarda il new ziland dollaro quello in alto a destra abbiamo un aumento dei contratti di vendita sul kiwi questa però è una situazione anomala in quanto a momento il dollaro neozelandese non ha avuto ancora dei movimenti bearish nei vari scenari dove è protagonista ciò implica che spesso i non commercial non utilizzano appunto come ho detto prima i future per copertura ma come speculazioni quindi esse molte volte si trovano è vero che si trovano nella parte giusta del mercato però nei casi di inversione si fanno cogliere diciamo partono più tardi sono impreparati perché proprio perché tutti sbilanciano nella stessa parte quindi molto probabilmente nelle prossime settimane potremmo assistere a un cambio di direzione del kiwi quindi mentre per il japanese yen quello in basso a sinistra vedete non c'è niente da dire anche la linea rossa non commercial è piatta quindi conferma la fase di congestione mentre per il canadian dollaro notiamo un forte crollo verticale frutto di un deciso alleggerimento dei contratti di acquisto detenuti dai non commercial quindi stanno ripiegando verso il basso vedete mentre per quanto riguarda l'ustralian dollaro il grafico in basso a destra continuano aumentare i contratti di vendita nei confronti dei contratti di acquisto dopo il passaggio di sotto la linea dello zero quindi tirando le somme il cot cosa ci dice allora i big sono posizionati sull'acquisto per l'euro stanno scommettendo acquisto acquisto di sterlina New Zealand potrebbe invertire la rutta e potrebbe diciamo avere nei suoi scenari una movimentazione quindi una fase di apprezzamento lo yen flat ancora il dollaro canadese diciamo è in fase di discesa quindi vedete e l'ustralian dollaro altrettanto sell quindi sono più contratti di vendita bene questa è la situazione per quanto riguarda il cot molto interessante e ora passiamo all'analisi delle singole dei vari scenari sapete che fine settimana vado ad analizzare solo le major beh qua per quanto riguarda l'euro dollaro l'ho detto prima non c'è niente da dire nel senso che siamo sempre all'interno vedete questa è allora vedete si avvale di più la mia tesi che sto portando avanti un concetto da un bel po' di tempo dove seguendo le indicazioni di elliot qua abbiamo la prima onda qua abbiamo la fine della seconda onda che si appoggia su 61.8 della prima onda e poi qua stiamo in piena onda 3 la più diciamo reattiva ok la più reattiva quindi abbassiamo il grafico molto probabilmente potremmo arrivare quest'onda andando calcolando con le estensioni di fibonacci quindi da questa zona fino a qua il 100 già l'ha superato abbondantemente vedete sarebbe il rapporto 1 a 1 con la prima onda quindi potrebbe arrivare quindi al 161.8 ovvero tra se rompe 1.23 456 il mio livello non convenzionale praticamente potrebbe arrivare 1.24 289 quindi alla fine la mia idea è quella di mettermi long fino di altri 230 punti quindi possiamo prendere altri 200 punti dopo aver preso questi altri 200 punti su questa zona stavo aspettando vedete cosa diciamo la fine di questa correzione bene ora molto probabilmente però siccome vedete c'è stato questo allungo questo allungo proprio nell'ultima parte io penso che ci potrebbe stare appunto ma anche come una fase fisiologica diciamo di chi si è messo sell praticamente chi si è messo sell chi si è messo buy per questa parte ovviamente domenica sera lunedì mattina inizierà un po' a ridurre le quotazioni diciamo a chiudere le proprie operazioni e quindi io ritengo che quanto c'è da qua a qua ci sono circa 96 punti ci potrebbe stare una correzione poi una fase quindi però voglio vedere domenica sera come apre come a base all'apertura poi ovviamente però la mia impressione è quella di restare buy quindi per me di andare buy al mercato questa situazione si evince anche sull'analisi eccola qua legata questo è un'altra piattaforma dove praticamente vado a calcolare vedete lui mi dice fine onda 3 proprio 1.23.768 super giù dove l'ho calcolata io sopra vedete siamo quindi all'interno in una fase di un'onda 3 bene andiamo a vedere invece dollaro yen dollaro yen la tendenza anche qua per me rimane rialzista per il semplice motivo che allora cioè possiamo diciamo analizzare i due grafici insieme ovvero tutte e due ci danno vedete siamo all'interno di una fase big di congestione ok e questo già l'abbiamo visto anche dal code che le ho delimitate da queste due bande però attendo il test del minimo cioè 110.85 su questa zona vedete qua ok dove in caso di rimbalzo potrebbe partire una movimentazione rialzista in quanto qua abbiamo anche un doppio minimo mentre in caso di superamento viceversa se viene superato questa zona se viene abbiamo un close qua sotto quindi molto probabilmente potremmo raggiungere c'è la possibilità di raggiungere questa fase quest'area supportiva cioè tra 180 e 60 e 108 quindi anche qua aspetto domenica sera e lunedì per vedere un po' quello che succede qua ok e poi decido sul da farsi beh eh per quanto riguarda invece qua Elliot anche Elliot mi da ottimo che vado eccolo qua Elliot vedete mi da siamo eh nel tele questo è un grafico tele inizio onda 3 minor rialzista ok quindi fondamentalmente il rimbalzo ci potrebbe stare poi potrebbe salire verso l'alto quindi questa è un'altra indicazione BUY beh ora passiamo ad la terza sterlina dollaro ovvero al cable beh il cable fondamentalmente vedete qua diciamo è quasi identico alla alla all'euro dollaro l'ultima seduta della settimana è stata movimentata da una decisa movimentazione rialzista di quasi due figure vedete che ha spinto il cable oltre la resistenza la mia resistenza a 1.36 569 tale movimento rialzista potrebbe continuare anche durante la prossima settimana seppure io non escludo la possibilità di un ritorno verso il livello rotto per 1.36 569 per poi riprendere a salire quindi vedete abbiamo è stato polverizzato questa zona di accumulo di demand e quindi molto probabilmente il prossimo target potrebbe essere proprio 1.38 992 perché no potrebbe anche arrivare 1.40 513 andiamo a vedere quello che ci dice invece Elliot sul cable eccolo qua anche qua mi da vedete siamo all'interno di onda 3 intermedia rialzista beh scusatemi è onda c intermedia rialzista ok adesso andiamo a vedere usd chf sempre l'analisi sul settimanale giornaliero allora qua abbiamo vedete è stato raggiunto in questo momento proprio nell'ultima parte gli ultimi scampoli il supporto a 0.96 881 diciamo raggiunto ma per poco è stato superato di pochi punti dopo aver testato nell'ultima seduta della settimana la resistenza 0.97 695 vedete da qui a qui quindi la prossima settimana in caso di breakout che sembra che però bisogna confermare del supporto a 0.96 881 la fase di apprezzamento potrebbe continuare fino a raggiungere i supporti a 0.96 159 e 0.95 244 vediamo anche elliot che cosa ci dice eccolo qua elliot ci dice che praticamente sempre su daily siamo all'interno di un'onda 3 minor ribassista che chiude a 0.95 392 eccolo qua beh passiamo a auto sd auto sd auto sd qui abbiamo vedete un breakout si vede meglio anche sul giornalino forse si vede meglio eccolo qua sopra il livello statico a 0.78 975 se viene confermato il close il movimento rialzista potrebbe raggiungere per le prossime le prossime nelle prossime sedute anche le resistenze posizionate a 0.79 848 o meno che o anche la più importante cioè la più lunga a 0.81 240 quindi praticamente potremmo avere un allungo di 60 punti e primo è di quasi 200 punti al secondo siamo in un trend rialzista e la tendenza rimane rialzista bene mentre invece andiamo a vedere Elliot che cosa ci dice auto sd eccolo qua anche qua vedete dice su siamo su auto sd siamo alla fine vedete siamo alla fine di un onda 3 ovviamente rialzista ovviamente che dovrebbe chiudere a 0.81 810 beh andiamo a vedere invece usd cad penultimo cambio usd cad qui allora in ottica giornaliera si nota un breakout lo vedete prendo un attimo la penna un breakout di chi di questo 1.24.697 e poi un classico pullback vedete 1.2 quindi su questo livello ora se vado a tracciare anche Fibonacci per capire un po' su per giù dove ci troviamo sul giornaliero si è fermato proprio sul 50 vedete bene da qua potrebbe partire una un'ulteriore fase di apprezzamento che è iniziata da questa zona anche durante la prossima le prossime sedute quindi potremmo avere una costruzione un ulteriore movimento di eliot fondamentalmente perché qua abbiamo già la prima onda qua abbiamo la seconda onda se qua diciamo mi da un'indicazione cell in pratica potremmo un'indicazione buy potrebbe andare ad avere un ipotetico target adesso lo segniamo eccolo qua 1.27 oppure anche 1.28 430 però 1.27 sarebbe rapporto 1.1 con la prima onda quindi massimo da questa zona abbiamo 233 punti e qua diciamo è un'ulteriore vedete sul settimanale se andiamo a vedere con attenzione non è arrivato qua quindi praticamente ci potrebbe stare una situazione lunga ok? che è gestita proprio da questa zona ci potrebbe stare potrebbe aversi una ripartenza ok? ok? e poi una una movimentazione bene quindi 1.24 697 quindi ci può stare una partenza lunga bene andiamo a vedere ah andiamo a vedere un attimo Elliot cosa ci dice per usd cad eccolo qua in pratica io qua ho un primo vedete io già sono sell al mercato già sono entrato troppo presto però ho un po' anticipato però vedete abbiamo un break in cioè abbiamo un test a 0.72 744 la candela che non ha fatto un break out della candela precedente ma un break in ha chiuso qua dentro quindi ciò potrebbe dare questo potrebbe essere un punto di swing da qua in poi potrebbe iniziare la discesa ok? quindi questa è una situazione molto interessante perché ovviamente vedete se ci possiamo sul settimanale ci potrebbe stare anche se perché nel caso in cui un break in della resistenza 0.72 744 se verrà superata la prossima potremmo settimana potremmo assiste in ulteriori giornate rialziste ma diciamo che quest'ultima candela mi fa un attimo pensare a un movimento sell però ovviamente dobbiamo aspettare domenica sera e lunedì e poi decidere che cosa fare anche perché come dicevo prima sul settimanale diciamo che è una tendenza rialzista molto forte e ciò diciamo prima o poi una fase di correzione la deve andare a fare ok? quindi andiamo a vedere anche elliot che cosa ci dice eccoci qua siamo alla fine di onda 3 vedete ci troviamo su per giù onda 3 poi dovrebbe arrivare un onda 5 che dovrebbe portare i prezzi a 0.71 937 quindi un po' più in basso bene questo è per quanto riguarda le major adesso per finire ho fatto degli screen su dei pattern armonici da prendere in considerazione allora outcad su settimanale abbiamo una bullish shark eccola qua la vedete praticamente è già arrivato al 38.2 manca solo il 61.8 quindi abbiamo un bel po' da poter su outcad la prossima settimana si potrebbe andare ad ragionare per un eventuale long infatti in quanto anche se ha fatto già un partito da questo minimo questo massimo questo minimo decrescente crescente vedete è già strutturato quindi abbiamo già 1.2 e potrebbe continuare anche fino al 61.8 outcad da tenere sotto stretta osservazione poi andiamo avanti abbiamo su outdn su una shark cyber questa qua è arancione già sta è in discesa praticamente sotto questo minimo siamo sul giornaliero quindi una cyber sul giornaliero sotto questo minimo ancora deve raggiungere il 61.8 quindi praticamente potremmo sotto questo minimo potremmo andare al secondo target sarebbe il 61.8 pari a 86 145 quindi anche questo è da prendere in considerazione poi abbiamo euro sterlina euro sterlina diciamo che bisogna un attimo vedere quello che succede perché qua diciamo che il movimento vero e proprio ribassista ancora deve partire infatti ancora dobbiamo arrivare a 38.2 ancora a 61.8 quindi ci manca un bel po' di diciamo ancora vi deve dare con film però la teniamo sotto controllo mentre vedete le altre due già diciamo possiamo evidenziare abbiamo già un filtraggio in più quello che abbiamo visto prima andiamo avanti euro yen euro yen di cui abbiamo già preso un po' di profitto però vedete adesso è ritornata verso su aspettiamo quello che succede qua abbiamo una bearish cart di ribassista aspettiamo quello che succede durante la prossima settimana e anche in ottica giornaliera quindi vado a contestualizzare la la situazione lo scenario in ottica giornaliera perché praticamente abbiamo un bel po' di profitti qua è 800 1400 punti 38.2 126 12 61 8 119 629 poi andiamo avanti e abbiamo su euro audi su h4 qua diciamo che abbiamo uno swing perché abbiamo due punti di massimo laterali inferiori rispetto a questo qua però ha fatto un break in vedete quindi molto probabilmente ci potrebbe stare un ritest verso su e poi una discesa anche qua facciamo attenzione però anche qua abbiamo possiamo avere della una interessante operazione poi abbiamo ecco euro dollaro euro dollaro il buy di cui abbiamo parlato prima che abbiamo visto che il cot ci da buy ci da indicazione buy l'analisi da price action ci da indicazione buy eliot ci da indicazione buy a questo punto diciamo che mancava l'appello di armonici e la bullish butterfly mensile vedete dopo che addirittura è partita da un bel po' di tempo no ancora deve raggiungere il 61.8 vedete quindi a 1.25 ma c'è il 74 addirittura mi da 1.26 quindi anche qua mi da un'indicazione buy poi andiamo avanti sterlina yen ok sterlina yen questo qua già è più interessante rispetto agli altri qua abbiamo sul giornaliero abbiamo una bearish butterfly sul in ottica daily e qua ancora dobbiamo arrivare al 60 ci abbiamo solo il 61.8 in questo caso quindi vedete allora qua già è come le prime due eh è come outgat out yen euro dollaro e ci mettiamo anche sterlina yen in quanto praticamente qui vedete già mi da una conferma le medie sono sopra abbiamo già una prima correzione quindi questa zona è una zona da prendere in considerazione per poter eventualmente per poter entrare su sterlina yen sell quindi ovviamente stiamo sul giornaliero l'andiamo a contestualizzare anche su h4 mh bene poi andiamo avanti andiamo a vedere se c'è qualche altra cosa mh abbiamo sterlina dollaro della nuova zeranda che già abbiamo preso un po' di profitto vedete abbiamo una bullish shark su h4 e anche qua ci manca il 38.2 quindi abbiamo un primo target al 38.2 e un secondo target al 100 al livello 100 di Fibonacci mh ok quindi la situazione vedete anche qua sopra questo massimo la dobbiamo andare a contestualizzare anche su h1 eventualmente sopra questo massimo potremmo tentare un ulteriore affondo rialzista poi abbiamo New Zealand Yen New Zealand Yen al momento la lascio un attimo in standby perchè ancora mi deve dare vedete sta fatto uno un due vediamo un po' che cosa succede qua su New Zealand Yen su New Zealand Yen però diciamo è ancora in standby poi abbiamo USDCAD USDCAD prima abbiamo detto una tendenza rialzista però qua mi da un'indicazione diversa quindi abbiamo una Bulli una Bearish Butterfly in ottica mensile va bene siamo su un mensile quindi però anche qua vedete sotto questa zona di minimo questa zona c'è ancora questo 61,8 da prendere però diciamo qua ci metto un punto interrogativo perché abbiamo delle incongruenze però vabbè comunque cerchiamo vediamo di poter vedere che cosa succede durante le prossime sedute poi andiamo avanti no sono finite e questi sono i pattern armonici vedete quindi quelli la che praticamente sono più diciamo ci danno un filtraggio in più sono AUD CAD per un'operazione BUY AUD YEN per un SELL EURO DOLLAR per un BUY sto parlando di pattern armonici sterlina YEN per un SELL sterlina DOLLAR neno-zelandese per un BUY e USD CAD per un SELL questo qua però ci ho messo un punto interrogativo benissimo ok io ho terminato quindi mi invito a visionare sempre la la telegram dove praticamente ci saranno tutta una serie di informazioni quindi importanti durante la settimana e niente quindi ci aggiorniamo direttamente nella prossima video analisi nel prossimo appuntamento in tempo reale appuntamento giornaliero lunedì mattina alle ore 8.30 grazie mille e buona continuazione a tutti e buon fine settimana grazie mille e buona tra